come fa la differenza? no, c'è l'uomo che fa differenza si, anche l'uomo tanto l'uomo tanto l'uomo manca tanto l'uomo manca vai fede che sei sul sentiero giusto sul sentiero di guerra non che la fa più fuore poi è finito sera monta su e vai fuori sera ora in sera devi provare tutto di ora vai fede è l'ultimo ultimo di fatti l'uomo vai 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 vai